Martina Sebastiani volta pagina dopo Andrea Dal Corso, il nuovo fidanzato Martina Sebastiani ha voltato pagina ed ha trovato un nuovo amore dopo Andrea Dal Corso Martina Sebastiani e la storia con Andrea Dal Corso L'estate scorsa Martina Sebastiani è stata una delle protagoniste di Temptation Island con il fidanzato Giampaolo Nel percorso all'isola delle tentazioni, la ragazza ha incontrato nel suo villaggio il tentatore Andrea Dal Corso Con quest'ultimo è nato un grande interesse e tra loro è scattato anche un bacio Ovviamente Martina e Giampaolo si sono lasciati e Martina ha iniziato una storia con Andrea Tuttavia, quello che c'era tra loro è durato molto poco Lui ha deciso di presentarsi a settembre nella nuova stagione di Uomini e Donne, prima come corteggiatore di Mara Fasone e poi di Teresa Langella Martina Sebastiani contro Andrea Dal Corso Durante il percorso di Andrea a Uomini e Donne, Martina non ha risparmiato alcune frecciatine e commenti velenosi sul bel modello Veneto Infatti, secondo lei Andrea è molto interessato alle telecamere e non è in grado di provare sentimenti e rispetto per le persone Evidentemente la fine della loro relazione è stata molto burrascosa A distanza di qualche mese, Martina ha voltato pagina ed ora è felice accanto ad un'altra persona Martina Sebastiani volta pagina dopo Andrea Dal Corso Martina, dopo le ultime polemiche su Andrea, aveva affermato di avere una vita sentimentale serena Martina Tuttavia, sui social non si è mai mostrata con la nuova fiamma Molti follower hanno chiesto insistentemente il motivo di questa assenza e Martina, negli ultimi giorni, ha fatto una serie di Instagram Stories a tradimento per mostrare il suo nuovo fidanzato Continua dopo la foto Continua dopo la foto .